Bene, grazie per la linea. In questa nostra rubrica del venerdì tenteremo di dare un impulso nuovo al nostro territorio con delle idee, dei nuovi progetti, delle nuove opere pubbliche importanti che non possono più attendere e che sono state studiate appositamente da un'equip particolare al cui capo di questa equip c'è un architetto importantissimo. Insomma, non abbiamo Fuxas, non abbiamo Renzo Piano perché sono ormai anche un po' di un'altra generazione. Abbiamo un architetto emergente, un archistar di prima grandezza, siamo collegati infatti con il suo studio che si trova appunto sull'Appennino Ligure a Voltaggio. Abbiamo con noi infatti, attenzione, attenzione, l'architetto Remo Forte. Buongiorno architetto. Buongiorno. Buongiorno architetto. Allora, in questa rubrica lei ci può così illustrare uno dei suoi progetti, uno alla settimana perché il tempo naturalmente a nostra disposizione non è molto, io so che lei ne ha elaborati tanti. Intanto lo presentiamo, lei è un grande architetto di fama internazionale. Sì, mi chiamo Remo Forte. Lei ha lavorato anche con Renzo Piano, no? Sì, una volta gli ho ristrutturato il bagno, sì sì. Gli ha ristrutturato il bagno di casa? Sì, però vedessi che bello, eh? Ah, beh, ci credo. Sì, sì, beh, ha fatto da un architetto come lei. Senta, ha fatto i suoi studi, insomma, regolari, eccetera, eccetera. Sì, sì, ho fatto geometra e adesso ho architetto. Ho fatto geometra e poi l'università. L'università. Geometra e poi faccio l'architetto, è uguale, eh? Cioè, si studia nelle stesse materie. Poi uno fa l'università per mettere una firma. Lei è modesto, è modesto, non vuole dirci quanti master anche ha fatto. Ha fatto molti master, lei ha fatto molti master. Sì, 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 ho fatto i master di carotaggio. Ah, ecco, lei è esperto di carotaggio. Sì, perché io sono famoso in tutto il mondo per i miei carotaggi. Sì. Ho fatto carotaggio e sono campione mondiale di carotaggio, anche olimpico. E adesso faccio il master anche, faccio il master di carotaggio, sì, sì. Categoria master. Vabbè, 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 è bello. Sì, è bello, è bello fare i carotaggi, certo, è molto interessante. Però adesso parliamo di opere pubbliche nel nostro territorio, lei ne ha una importantissima che darebbe uno sviluppo incredibile all'entroterra. È cosa vuole, è cosa vuole. Se questa è l'entroterra, mi ha chiamato il comune di Gattorna. No, non è un comune, vabbè, comunque sì, è un comune di Moconisi, vabbè, ho capito. Gattorna, Gattorna. Mi ha chiamato il comune di Gattorna e mi ha detto di rifare il waterfront del comune. Allora stiamo studiando come un'altra serie di... Scusi, architetto, architetto, ma è come il waterfront? Cioè, allora, Gattorna, lei lo sa, nell'entroterra non c'è il mare. Sì, waterfront, a me vado in moda, tutti i comuni adesso chiedono il waterfront. O aeroporti, galleggianti o waterfront. Sì, quelli che sono... Noi abbiamo individuato questa serie di opere, di riempimenti, poi facciamo tutti i giardini a mare di Gattorna. Ma i giardini a mare di Gattorna... Ma mi scusi, ma c'è una collina davanti prima del mare, come fa? Eh, non è, ormai siamo nel terzo millennio, cioè, busti giù, spiani... Ma come spiani la collina? Ma c'è di dietro c'è Uscio, c'è Tribogna, come fa a spiani? Noi ci fai lo sciacchettraus, adesso, non ci fai i terrazzamenti, fin giù, arrivi al mare, c'è il waterfront è la meraviglia. Ma scusi, mi scusi, architetto, io non sono molto d'accordo su questa cosa. Ho comprato la casa a Gattorna tra dieci anni e mi sta male. Ho capito, ma non porterebbe niente a Gattorna, cioè, intanto, il mare sarebbe comunque a chilometri di distanza, non è che c'è subito lì il mare, capisci? Eh, c'è, no, 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 no. Eh? Vabbè, io, guardi, senta, adesso, siccome abbiamo poco tempo, quest'opera dei giardini a mare a Gattorna, io la archivierei un attimo, la rivediamo un attimo. Io, scusi, architetto, passerei a un'altra opera, se abbiamo pochissimo tempo, quindi può dire anche un'altra velocemente? Ce n'è una a cui sto lavorando che è bellissima, anzi, ho bisogno di una raccolta fondi da fare con voi attraverso la televisione, ed è quella di mettere, cioè, su questa enorme superstrada che c'è adesso che collega il mare con la Val Graveglia, no? Questa variante è settembrino. Ah, la variante è settembrino, certo. Eh, ma scusi, ma 1100 chilometri senza neanche un autogrill, abbia pazienza. No, 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 scusi, architetto, non sono 1100 chilometri, sono 1100 metri, cioè un chilometro e cento. Vabbè, comunque, va bene, continui, continui. Ah, allora, questa variante è bellissima, e mettiamoci un autogrill in mezzo. Ah, in mezzo, facciamo posti di lavoro. Un autogrill sulla variante di settembrino? Eh, sì, la gente va a funghi, si serve un caffè, una pipì, non possiamo far fare 1100 chilometri di mai fermarsi. Sì, non sono 1100 chilometri. Comunque, sì, si ho capito. Siamo di stare lì nell'interlanda milanese, perché la milanese c'è pieno di autogrill. No, certo, poi si potrebbe, si potrebbe, architetto, mi scusi, si potrebbero fare anche le vendite di prodotti tipici della vallata, è importante, no? Ad esempio, ad esempio, le melanzane secche, le arance, come le arance, vabbè, vabbè, comunque, ma non lo so, qualcuno ci sarà con le arance, ma non è il prodotto tipico. Scusi, ma ci sono dei vendoli che vendono le arance, dove le prendono, mi scusi, dai, il Congo? Eh, sono fatto sotto. Allora, architetto, lanciamo questa proposta, quindi diamo un IBAN su cui fare questa raccolta di fondi. Come si chiama? Crowdfunding? Crowdfunding. L'IBAN è il mio, Remo Forte. Remo Forte. La variante, c'è la variante, scusi, la causale, variante, settembrino. Autogrill, sì. Autogrill, 888. 888. Sì, è l'IBAN. L'IBAN è 888. Sì, ah, punto it, punto it. Punto it. Cosa ride? Cosa ride? Perché l'IBAN mi ha sempre fatto ridere. Vabbè, l'IBAN. Vabbè, l'IBAN è l'IBAN. Sì, sì, vabbè, architetto, abbiamo finito il tempo, architetto. Grazie, ci vediamo la prossima settimana. Ma che se ride? Ma che se ride? Vabbè, arrivederci a tutti.